buon buon pomeriggio a tutti ragazzi ma in questo video parleremo di che cosa parleremo del 87 episodio di dino hunter the adri shorts episodio 87 giusto non si sa cosa andremo a fare ma spero di sbloccarmi la serie fucile d'assalto la regione 21 l'avevamo sbloccata nell'episodio recente l'86 ok ma qua non si sa cosa succederà quindi buona visione eccoci qui rag questo è l'87 episodio di dino hunter tre ingegna e che sono vediamo meno male due guadondi polmone ero mangato l'audio tre dei nonici sono parenti dei raptor assomigliano eh eh preso due triceratobi vediamo prende questo bellissimo questo tre coritosauri prende questo e abbiamo stesi tutti quanti due sin raptor questi io me li ricordo come se me li ricordi nooo oh ce l'ho fatto e che diamine tre ingegna tre ingegna o meno male non ho sbagliato perché altrimenti con questo qua manco ne posso colpire manco uno ragazzi con questo stupido fucile l'arco quattro dei nonici provo l'arco 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 avanti cuore sicuro No, polmone Ok Benissimo Pentaceratobi Ancora qua l'audio non si è sbloccato Preso Beh Treguadonti Dove credi di andare? Anche lui cuore Controllavo se c'era la pubblicità Per un velo E' mancato di nuovo l'audio Beh Fatto Avanti, cominciamo Oh Dai Perfetto Ce l'ho fatta Wow Più veloce Non mi basso Forse il volume è basso Ah Ecco E l'ho aggiustato Tranquilli Prendi questo Prendi questo Eh Ma qua lo evito il potenziamento Così Così le abbatto Lo che ci vuole Maledizione Maledizione Non è Non è Non è mancava uno Aspettate Benissimo Beh Beh Tre partite sprecate Però La fine Ce l'ho fatta Beh Ci prova Lo stesso Che senza potenziamenti Vediamo Perfetto 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 Noo Dai Ce la posso fare Sì, ce l'ho fatta Perfetto Incredibile Ce l'ho fatta Non sto registrando, scusate Comunque, ho fatto il dromesa Ma com'è potuto accadere? Ma Quattro coritosai, lo stesso Dai, proviamoci Non ce la potevo fare Ce l'ho fatta, però manca L'audio E' ritornato l'audio 5 gallimime E' ritornato l'audio Benissimo Ho utilizzato il crono, dammi qualche aiuto Ma Proviamoci Tutto questo, ragazzi Il crono E' ritornato l'audio E' ritornato l'audio Ma Da questa parte Sta Venendo Ciò devo stare Molto attento Ecco Ecco, muori Dura Dura, vero ragazzi Ok La serie archi L'abbiamo completata Ora mi guarderò un sacco di video Che la mi serve Ragazzi Cominciamo Abbatti il piede veloce Benissimo Qui soltanto il crono He, he, he Ce l'ho fatta Vai Bravo Biagio Manca solo uno La vipera E' STRANN Un pugni Per Usi Vipera Di Amik Un himno Un deliberately le vipere ragazzi abbattiamo queste vipere da dove comincio da questa qui andiamo se lo facevo senza il crono proprio in un bel pasticcio andavo a finire però ragazzi col fucile d'assalto il mio fucile preferito qua non si mette niente fucile d'assalto benissimo no no a 800 vendi certo beh comunque il video si può congodere qui d'accordo bene ragazzi spero che questo video venne di Dino Hunter The Elder Shores episodio 87 completiamo la serie archi e poi sblocchiamo la serie fucile d'assalto vi sia piaciuto di scaricare mi ha accolato il tuo bel like su Instagram e noi ben decideremo in un prossimo video con l'ottantottesimo episodio di Dino Hunter The Elder Shores al prossimo video ciao a tutti